Voi avete solo un compito, avete solo un compito, alla fine di queste otto lettere voi ne dovete dire solo una e sarà la lettera O, ma più forte che potete, giusto per lo sforzo di quelle che devo fare io, vai no? Dai! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!